Amici sportivi del Nord America, buongiorno, siete collegati in diretta via satellite con l'Italia per seguire le vicende della penultima giornata del campionato di Serie A. È la giornata di Napoli e del Napoli. Siamo praticamente a 90 minuti dalla conquista storica del primo scudetto del Napoli che sta per affrontare la Fiorentina al San Paolo, gremitissimo ovviamente, con tre punti di vantaggio sull'Inter che sta giocando a Bergamo contro l'Atalanta. Una vittoria contro la Fiorentina oggi darebbe la certezza matematica del primo scudetto della storia del Napoli, uno scudetto atteso, 61 anni. Ma naturalmente anche eventualmente un pareggio, a limite addirittura una sconfitta, se ugualmente accompagnati da un pareggio o da una sconfitta dell'Inter darebbero lo stesso al Napoli. La sicurezza della conquista dello scudetto. E in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, il Napoli resterebbe sempre con un punto di vantaggio prima dell'ultima giornata. Insomma, il gioco delle probabilità dice Napoli a lettere enormi. Napoli dunque che affronta la Fiorentina in questo ultimo appuntamento casalingo. Bianchi ha scelto questa formazione per questa partita che potrebbe diventare, come si diceva, storica per la storia del calcio a Napoli. Numero uno, Garella, due Bruscolotti, tre Volpecina, quattro Bagni, cinque Ferrario, sei Renica. Sette Carnevale, otto De Napoli, nove Giordano, dieci Maradona, undici Romano. La Fiorentina che ha il ruolo quasi di invitata alla festa, anche se in realtà ha qualche problema di classifica, perché la Fiorentina quota 23. Non è sicurissima della salvezza, avendo il Brescia a 22, Ascoli-Dempoli a 21 e l'Atalanta a 19. Comunque la Fiorentina ha molte possibilità di salvarsi, anche in caso di sconfitta oggi a Napoli. La Fiorentina gioca comunque schierata da Eugenio Bersellini con questa formazione. Landucci portiere numero uno, contratto numero due, Maldera numero tre, Oriali numero quattro, Pin numero cinque, Gentile numero sei, Onorati numero sette, a fondo intanto tentato da Volpecina che viene fermato nell'area di rigore. Onorati numero sette, Gelsi numero otto, Diaz numero nove, Antognoni numero dieci e Baggio numero undici. Dirige l'incontro l'arbitro Pairetto di Torino con la collaborazione dei giudici di linea Bianchi e Dibello e Iorio. Tre minuti di gioco nel corso del primo tempo a San Paolo di Napoli. Vediamo il libero della Fiorentina che è gentile, oggi schierato appunto in questo ruolo. Campione del mondo nell'82 in Spagna insieme all'area Oriali che ha la maglia numero quattro, vincitori di Scudetti nell'Inter e nella Juventus, quindi esperti di momenti di festa. Un attacco di Romano viene fermato ancora da Gentile, quindi torna in avanti o cerca di farlo la squadra della Fiorentina che oggi è schierata in maglia bianca, pantaloncini viola e gioca questo primo tempo alla destra dei vostri schermi. In primo piano il capitano Giancarlo Antonioni che è stato recuperato quest'anno dopo una lunghissima pausa per il secondo grave infortunio della sua carriera, è recuperato quest'anno all'attività. vediamo un altro esperto in titoli, campioni d'Italia più volte Aldo Maldera che ha vinto il titolo con il Milan e con la Roma. un tentativo di De Napoli che viene fermato irregolarmente e mentre l'arbitro ammonisce il contratto che ha effettuato questo intervento duro su Nando De Napoli, numero 8 della formazione napoletana. il Napoli oggi non può schierare Ciro Ferrara, anche Bagni era in condizioni fisiche non perfette, comunque Bagni è regolarmente in campo mentre Ferrara non può giocare. Al suo posto c'è Bruscolotti, uno della vecchia guardia. Nella Fiorentina non c'è Berti e c'è invece Gelsi con Onorati numero 7. Un rinvio da parte di contratto, un affondo adesso di Onorati, controllato da Volpecina. verso Ramon Diaz, già compagno di squadra di Maradona nel nazionale argentina campione del mondo juniores. Un tocco di Volpecina all'indietro. Vediamo Garella che ha già vinto un titolo di campione d'Italia con il Verona. Tanto la Fiorentina batte il primo calcio d'angolo perché l'intervento di Volpecina che abbiamo visto prima un po' scoordinato nei confronti di Garella. Ecco l'angolo della Fiorentina, lo batte proprio Diaz. Si crea questa mischia davanti alla porta di Garella, ancora un po' di incertezza. Rimessa dal fondo per il Napoli. Ecco Claudio Garella, due anni fa campione d'Italia con il Verona, poi passato al Napoli, adesso ha conquistato, sta per conquistare lo scudetto con il Napoli. Vediamo un record, nessun portiere, ha vinto due scudetti con due squadre diverse. Bologna 1, Cagliari 0, gol di Quaggiotto nella partita di Serie B tra Bologna e Cagliari. Per gli appassionati del tennis, si è appena concluso al fuoritarico di Roma il torneo femminile degli Open Internazionali di Italia di Tennis. Ha vinto la tedesca occidentale Steffi Graff davanti all'Argentina, Gabriella Sabatini in 3-7, la giovane Graff ha battuto l'ancor più giovane Sabatini per 3-0, 3-7-0. Ieri era stata eliminata Martina Navratilova. Calcio di punizione in favore del Napoli con Diego Armando Maradona. sulla palla, la punizione, sfiora il palo, il volo di Landucci accompagna la palla che esce alla sinistra della porta della Fiorentina. Calcio di punizione di Diego Armando Maradona dopo 7 minuti e 50 di gioco. Maradona ha realizzato 10 gol in questo campionato proprio come Ramon Dias. a San Benedetto del Tronto, San Benedettese 0, Pescara 1. In serie B Pescara in vantaggio a San Benedetto del Tronto. Sensativo di attacco da parte di Onorati, fermato da Renica, ottimo intervento del libero del Napoli che poi rifinisce la sua azione, trasformandola in un attacco, ancora un bel lancio di Renica, intervento di contratto che rendì al volo del Napoli, pronto Landucci, quindi è Pin che completa l'intervento difensivo sulla corta respinta di Landucci mandando in fallo laterale. Romano, bello affondo, Maradona serve ancora in acrobazia verso Romano. Maradona, Maldera, Diaz, ecco Ramon Diaz, supera Bagni, buon pallone per Baggio, ecco il giovane Baggio si libera, cerca di farlo per il tiro, c'è un intervento su di lui, un po' rude, l'arbitro Pairetto lascia comunque correre, fa proseguire l'azione ed è il Napoli ora che si rovesce in avanti con questo attacco di Bruno Giordano, cerca di incrociare Maradona e Romano ma viene fermato dalla difesa della Fiorentina, partita cominciata in maniera molto disinvolta, molto spigliata, Bagni ancora per Maradona, cerca lo spazio per il tiro, Maradona il suo diagonale ancora incrocia il palo opposto, il secondo palo dalla posizione da cui aveva tirato e va nuovamente fuori, il tiro di Maradona al decimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 fra Napoli e Fiorentina, sempre tre punti di vantaggio fra il Napoli e l'Inter, rivediamo l'azione e il tiro di Diego Armando Maradona, mentre ancora a terra Ramon Diaz, era rimasto infortunato in uno scontro nell'azione precedente, interruzione dal decimo minuto circa 20 secondi, 30 secondi adesso di interruzione, vedete una inquadratura imponente della presenza di pubblico allo stadio San Paolo di Napoli, ci sono tifosi giunti si può dire da tutto il mondo, c'è un enorme striscione da parte di tifosi americani di New York, tifosi che normalmente seguono il campionato italiano attraverso queste nostre telecronache che oggi però non sono voluti mancare con una presenza fisica allo stadio San Paolo per questa partita che abbiamo più volte detto, si presenta veramente con i connotati dell'incontro storico per i tifosi del Napoli, per gli appassionati di calcio, è sicuramente un evento memorabile la conquista del primo scudetto da parte della squadra partenopea. Vediamo in azione Bagni che mette in movimento Romano, Giordano malinteso con Romano ma subentra nell'azione Bagni, Ferrari, Maradona ancora per Moreno Ferrari che si spinge in avanti, effetto un bel cross, il colpo di testa da parte di Pinn che mette fuori aria e riprende però De Napoli, in zona tiro De Napoli, non se la sente di provare il sinistro e l'azione spuma e cerca la replica alla Fiorentina mandando in avanti Pinn, subito intercettata l'azione da Bagni, Bruscolotti, Remica, Romano, Volpecini, Romano, intelligente acquisto novembrino Romano che veniva dalla Triestina, ancora Francesco Romano, Volpecina affermato in questo suo ennesimo tentativo di incursione sulla fascia sinistra, quella di sua competenza specifica, si riprende ancora con un calcio di punizione in favore del Napoli, c'è Maradona sulla palla, a fianco c'è Romano, ecco la punizione di Maradona, colpo di testa da parte di Contratto, riprende Ferrario, era quasi in zona tiro Ferrario, viene fermato da Gelsi, in maniera irregolare ancora un calcio di punizione, dal limite un po' spostato sulla sinistra rispetto all'asse centrale della porta di Landucci, dietro c'è Giordano e anche Romano che potrebbero pure tirare in seconda battuta, è sempre Maradona che è sulla palla quindi dipenderà da lui decidere per un tiro diretto in porta oppure per un passaggio, tira Maradona alto, ha tentato poi la conclusione personale, ha optato per il tiro di prima e senza la variante del passaggio ai compagni che erano piazzati eventualmente per ricevere un pallone rasoterra da abbattere in porta, Maldera, Contratto, la palla va due volte sui piedi dei giocatori, la sensazione era che l'ultimo a toccarla fosse stato il Fiorentino e così è infatti la rimessa in gioco per il Napoli Giordano ricevuto da De Napoli, colpo di testa da parte di Oriali ancora Giordano, Maldera di testa, Ferrario ancora con un buon anticipo, ancora in zona tiro a Ferrario ancora va lui al tiro, sono già due o tre volte che il difensore del Napoli tenta l'incursione offensiva quarto d'ora del primo tempo, 0-0 fra Napoli e Fiorentina da notare curiosamente che la Fiorentina è stata la prima squadra a battere il Napoli nel giurone di andata, questa partita si concluse a Firenze con la vittoria della Fiorentina fu la prima sconfitta del Napoli in questo campionato, Napoli che poi nel giurone di ritorno ha perso altre due volte ecco Giordano in tutto tre sconfitte per la squadra napoletana che ha vinto 15 volte ha pareggiato 10 volte e ha perso appunto queste tre partite, la prima a Firenze e poi la sconfitta di San Siro con l'Inter e di Verona contro il Verona appunto Ancora nessun gol segnato in Serie A e si gioca da oltre un quarto d'ora tutto fermo sullo 0-0 in tutti gli otto campi di Serie A batte Claudio Gentile, calcio di punizione ai favori della Fiorentina Bruscolotti anticipa Ramon Diaz Ancora verso Diaz, su Diaz Bianchi ha messo a guardia controllo l'esperto Giuseppe Bruscolotti Antognoni riceve da Onorati, ancora un cross, Bagni riesce a intercettare Giordano che parte molto retrato in questa azione, spinge davanti De Napoli ancora triangolazione De Napoli-Giordano riesce a intervenire d'anticipo ancora Claudio Gentile quindi da Gentile il rinvio sbagliato che viene raccolto ancora da Moreno Ferrario che si trova abbastanza libero di spingersi in avanti frequentemente quindi Giordano ha fatto un lancio molto intelligente in profondità ma non c'è nessun compagno pronto a sfruttarlo Romano-Ferrario Romano Maradona Maradona c'era in questa circostanza Gelsi ecco ancora Gelsi, perde il Pechel ancora su Moreno Ferrario è sempre spinto in avanti molto pericolosamente e Maradona va al cross verso Ferrario ancora che era l'attaccante più avanzato in questa circostanza Ferrario sta diventando un punto di riferimento tattico molto interessante in questa partita Bruscolotti è su Diaz la Fiorentina non ha poi un altro attaccante vero e proprio quindi Ferrario si trova praticamente libero e si inserisce in avanti Giordano per Volpecino Lungo per Maradona che mantiene la palla in campo ma era già uscito fuori era già uscito fuori quando Maradona ha tentato il cross 19 minuti di gioco nel corso del primo tempo a Napoli sempre 0-0 fra Napoli e Fiorentina la città è pronta per la festa che dovrebbe scattare in contemporanea con il fischio di chiusura dell'arbitro Pairetto Volpecino ancora Volpecino va al cross verso Giordano si libera e Maldera gli impedisce il tiro contrastandolo proprio al momento in cui Giordano sferrava la botta riprende comunque Napoli con Renica Romano Bagni attaccato da Baggio Bagni però vince il Teckel Maradona Maldera al rinvio quindi tentativo di affondo della Fiorentina c'è una irregolarità c'è un fallo battuta la punizione un fallo suonorati battuta la punizione un fallo su De Napoli Ferrario Renica l'ex Sampdoriano serve in profondità verso Giordano riprende Carnevale ancora Giordano su di lui c'è contratto in questa circostanza arriva a raddoppiare con successo la marcatura Onorati che toglie la palla regolarmente a Giordano poi però se la porta in fallo laterale rimessa in gioco per il Napoli dopo l'intervento di Onorati bravo nel fermare Giordano poi però ha scupato portando la palla in fallo laterale battuto il quale la difesa della Fiorentina va al rinvio e la conclusione ancora sul fondo 22 minuti e la conclusione di Romano che vediamo ora in quadrato mentre Landucci si sta prestando eccolo in quadrato al rinvio Romano aspetta la collaborazione di Bruscolotti primo gol in Serie A è della Sampdoria con Vierkhovod Roma 0 Sampdoria 1 ha segnato l'ex Vierkhovod 22 minuti e 40 secondi 0-0 fra Napoli e Fiorentina con il Napoli che sta per battere questo calcio di punizione in area Carnevale anche Renica si è spinto in avanti ecco la punizione di Maradona deviata e va in calcio d'angolo ecco in quadrato Marino Pierpaolo Marino general manager che ha collaborato e collabora tuttora con Italo Lodi che era il consigliere del presidente proprio in questo ruolo di general manager direttore sportivo batte Maradona il primo calcio d'angolo per il Napoli per Volpecina e viene fermato da Gelti rimessa in gioco ancora con Diego Armando Maradona scatta Ziad con la collaborazione di Antonioni ora fa venire in avanti Oriali supera un avversario Baggio ha cercato di seguire lazione la difesa del Napoli si è chiusa bene e adesso è Salvatore Bagni che viene in avanti serve Romano attaccato da Maldera Carnevale Ferrario il cross di De Napoli Baldera respinge corto riprende Bagni ma su di lui c'è un intervento irregolare calcio di punizione assegnato dall'arbitro Pairetto vediamo De Napoli e Giordano mentre Maldera e Contratto formano la mini barriera davanti al numero 9 del Napoli Bruno Giordano che sta per battere questo calcio di punizione batte Giordano verso Bagni su di lui c'è Oriali Carnevale è finito a terra comunque l'azione prosegue con il rinvio di Oriali in pallo laterale 25 minuti di gioco sempre 0-0 fra Napoli e Fiorentina Renica Maradona sempre controllato da Gelsi Maradona fermato da Gelsi l'azione è proseguita da Antognoni con la collaborazione ancora dello stesso Gelsi non riescono però a uscire fuori da quella zona i fiorentini ecco Riali ancora verso Antognoni Antognoni allarga la manovra mettendo in profondità Diaz e quindi si spinge sulla fascia sinistra Maldera il cross di Maldera verso Baggio ma c'è l'intervento di Volpecina e poi di Ferrario all'indietro verso il portiere Segarella per tranquillizzare la manovra Carnevale in TDB a Catania Taranto 1 Catania 0 gol di De Vitis per il Taranto Catania 0 Taranto 1 rivesta in gioco di Beppe Bruscolotti Renica Maradona fermato da Gentile Maldera a terra Antognoni che ha subito il fallo la fiorentina ovviamente beneficia il calcio di punizione per il fallo di Bagni nei confronti di Antonioni i due sono stati compagni di squadra in nazionale Gentile preferisce l'appoggio indietro a Landucci guadagna tempo Landucci con qualche fischio del pubblico attaccato ora da Giordano arriva anche l'arbitro Pairetto l'arbitro assegna il calcio di punizione alla fiorentina per il disturbo di Giordano ma si continua a perdere tempo però ancora Landucci è più di un minuto che non si riprende il gioco ecco che finalmente secondo gol in Serie A ha segnato l'Udinese con Pasa Torino 0 Udinese 1 quindi vantaggio dell'Udinese con Pasa a Torino Torino 0 Udinese 1 ecco Giordano Maradona viene avanti al Carnevale in posizione gol 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 del Napoli con Carnevale Carnevale 28esimo minuto e mezzo Napoli 1 Fiorentina 0 ha segnato Carnevale ancora una volta il giovane attaccante della provincia di Latina si conferma un uomo gol importantissimo anche se l'allenatore Bianchi non l'ha sempre utilizzato in questa stagione preferendo una tattica più prudente con l'impiego del valido Capparelli Carnevale ogni volta che ha potuto giocare ha dato un contributo di gol molto importante per Carnevale dunque questo gol che è il settimo di questo campionato per Carnevale che come vi ripeto Andrea Carnevale non ha giocato sempre tutte le partite spesso ha giocato soltanto qualche spezzone di incontro è entrato o è stato sostituito tuttavia Carnevale sta dando un contributo veramente prezioso allo scudetto del Napoli ricordo che Carnevale è anche titolare della nazionale olimpica in azione maldera ha intercettato Romano ecco Gelsi gentile per il Napoli si tratta del quarantesimo gol di questo campionato Vicenza 1 Parma 0 gol di Bertozzi Vicenza 1 Parma 0 in serie B Carnevale attaccato inutilmente da Pim si ripende con questo calcio di punizione in favore del Napoli Renica Ferrario Renica un lancio lungo di Renica verso Maradona colpo di testa di Gentile a Empoli Avellino in vantaggio Empoli 0 Avellino 1 è una partita molto importante nella lotta per la salvezza per la nessun problema per Garella il gol dell'Avellino è stato segnato dall'autriaco Walter Schachner ecco in azione Bruno Giordano Maradona 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 il primo cannoniere del Napoli con 10 gol 7 gol ha fatto appunto Carnevale sui 40 gol che il Napoli ha segnato finora in questa stagione poi con 5 gol abbiamo Bruno Giordano come terzo cannoniere della squadra napoletana scontro con Romano e Oriali fra Romano e Oriali Pairetto ha segnato il calcio di punizione per la Fiorentina ancora terra un giocatore della Fiorentina questa volta è Baggio giovanissimo ma molto sfortunato ha avuto dei problemi con le ginocchia Menisco Legamenti giocatore che sembrava lanciato verso una strepitosa carriera valutatissimo anche in sede di mercato ma la sfortuna di questo incidente che poi ha avuto delle ripercussioni ripetute lo ha praticamente tenuto sempre lontano dai campi di gioco ritorna adesso in questo finale di stagione batte Antonioni il calcio di punizione per la Fiorentina va al tiro Gelsi palla controllata da Romano e poi gettata in fallo di fondo secondo corner per la Fiorentina batte anche questo angolo Giancarlo Antonioni colpo di testa da parte di Rennica che mette di e anzi di Carnevale che era in difesa Maradona ancora anche lui in difesa che disimpegna a beneficio del portiere Grella inquadrato il presidente del Napoli Perlaino che sta seguendo la partita a bordo campo come vi dicevo c'è un enorme cerimoniale che sta per scattare per i festeggiamenti cerimoniale che non riguarda soltanto lo stadio o la città di Napoli ma i napoletani sparsi un po' dovunque in Italia e nel mondo in contemporanea festeggeranno insieme questo primo scudetto ecco Maradona ben lanciato Maradona è un po' solo e intanto arriva da Bergamo la notizia che dà ancora di più lo scudetto a Napoli Atalanta 1 Inter 0 ha segnato Francis l'inglese Trevor Francis ha portato in vantaggio l'Atalanta quindi a questo punto i punti di vantaggio del Napoli sull'Inter sono 5 sono 5 i punti di vantaggio eccolo il tabellone che inquadra la nuova situazione Atalanta 1 Inter 0 contemporaneamente all'1 e 0 del Napoli sulla Fiorentina al 35esio minuto e 40 secondi ormai ormai il pubblico al San Paolo non segue più la partita nei suoi fatti tradizionali salienti ma ormai sta seguendo un po' tutto quanto lo svolgimento di questi 90 minuti conclusivi con uno stato d'animo ovviamente inconsueto per quello che è la normale presenza del pubblico allo stadio fra le notizie di Bergamo e quello che sta succedendo qui a Napoli ormai si sta legittimando ufficializzando concretizzando quello che ormai praticamente un po' tutti avevano già intuito da tempo ecco intanto la punizione di Antonioni che viene ribattuta palla raccolta inseguita da Onorati verso ancora Onorati la triangolazione di Celeste Pin perde l'azione Onorati non riesce a trovare la possibilità di effettuare il traversone Remica Romano Remica Maradona ancora un lancio verso Maradona finisce in fallo laterale un intervento di Remica poco prima dell'ingresso nell'area di rigore su Ramon Diaz che stava diventando pericoloso in contropiede Calcio di punizione dunque in favore della Fiorentina calcio di punizione dal limite c'è Antognoni c'è anche Maldera che è un buon tiratore di punizioni si porta sulla zona però anche Baggio va via Maldera restano Baggio e Antognoni tira direttamente Baggio gol Baggio ha pareggiato per la Fiorentina 38 minuti e 40 secondi la Fiorentina ha pareggiato con Baggio proprio quel Baggio di cui avevo parlato che destinato a grande carriera ha avuto questo gravissimo prolungato incidente al ginocchio rivediamo la punizione di Baggio che ha perforato la barriera e ha vedete Garella che infatti se la prende con i compagni proprio perché la barriera è stata bucata dalla punizione di Baggio che ha visto il vuoto e ha centrato proprio il punto giusto dove far penetrare il pallone 39esimo minuto e mezzo adesso 1-1 tra Napoli e Fiorentina vediamo Lona lascia l'incarico di Napoli Dias era come ricorderete era scattato in contropiede tre avversari hanno un po' forse freccolosamente commesso il pallo su di lui probabilmente Dias poteva essere controllato in maniera diversa un po' di precipitazione è scatturito quel calcio di posizione che la Fiorentina ha sfruttato adeguatamente con Baggio segnando il gol del pareggio Renica rimessa in gioco di Volpecina Romano Romano va al tiro fuori il suo diagonale ha cercato la sorpresa Francesco Romano mentre Landucci infatti si è un po' lamentato ora con i compagni per il fatto che Romano tutto sommato è arrivato un po' troppo indisturbato in zona tiro cambio Landucci gentile 41 minuti di gioco nel corso del primo tempo 1-1 fra Napoli e Fiorentina Diaz tre avversari su di lui anche Bruscolotti che è quello che controlla nel marcamento uomo l'argentino e più poi altri due di rinforzo per ostacolare la marcia del pericoloso Diaz che è un ex Diaz fu importato dall'Argentina in Italia proprio da Napoli Antonioni va al tiro ne spinge Garella riprende poi fuori intanto Brescia in vantaggio sull'Ascoli con un gol di Gritti Brescia 1 Ascoli 0 rivediamo la bella parata di Garella e poi vediamo che Oriali ha fallito la conclusione la palla gli è arrivata un po' in attesa e un po' precipitosamente addosso e Oriali ha tirato di prima intenzione Baggio riconquista la palla Oriali si è liberato Maldera sulla sinistra viene avanti anche Gelsi Maldera rimasto in posizione di Ala in buona posizione va al cross scivola un avversario che prima è Ferrario poi arriva Renica che salva su Diaz momento un po' di sbandamento del Napoli Fiorentina che cerca di approfittarne tira Antonioni ribatte ancora Renica subito il gol del pareggio da Baggio la squadra napoletana soprattutto in difesa appare un po' disorientata Onorati fermato da Volpecina in fallo laterale la rimessa in gioco di Onorati verso Gelsi fermato da Volpecina De Napoli viene servito nella posizione di Ala il cross di De Napoli colpo di testa di Pin Bagni Ferrario verso Carnevale Romano Romano in posizione di tiro la palla viene deviata fra Giordano e Contratto stava per ingannare Landucci che se ne avvede in tempo intuisce e può bloccare rivediamo ancora quest'azione ecco vedete la deviazione è stato Giordano che ha cercato in tutti i modi di correggere la traiettoria ma Landucci non si è fatto sorprendere finale primo tempo a Verona Verona e Juventus 0 a 0 le due squadre stanno tornando negli sfogliatoi Giordano riconquista un bel pallone Antonioni però gli ha tolto la palla contratto Maldera rilancio di Maldera Diaz ecco Baggio onorati tanto all'Olimpico la Sampdoria ha raddoppiato con Vialli Roma 0 Sampdoria 2 ecco in azione Renica parziale primo tempo Atalanta 1 Inter 0 il gol è di Francis ma è finito anche il primo tempo a Napoli dunque le squadre vanno al riposo con il punteggio di Napoli 1 Fiorentina 1 gol di Carnevale pareggio di Baggio 10 minuti dopo parziale Modena 1 Messina 0 e abbiamo dunque questa situazione finale primo tempo Atalanta 1 Inter 0 con il Napoli che in questo momento ha portato a 4 i punti di vantaggio sull'Inter e nonostante questa delusione del pareggio di Baggio lo scudetto è ancora più vicino al Napoli a risentirci fra un quarto d'ora circa Italia e le vicende della penultima giornata del campionato di calcio di Serie A come si diceva è la giornata del Napoli e di Napoli comincia il secondo tempo al campale di Napoli dove Napoli e Fiorentina sono sul punteggio di 1 a 1 mentre l'Atalanta sta vincendo per una rete a 0 sull'Inter per cui in questo momento il Napoli ha 4 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter ed è matematicamente campione d'Italia giornata dunque dello storico primo scudetto delle Napoli che per questa partita è stato schierato con Garella Bruscolotti Volpecina Bagni Ferrari Renica Carnevale De Napoli Giordano Maradona e Romano la Fiorentina gioca con Landucci Contratto Maldera Oriali Pinne Gentile Onorati Gelsi Dias Santognoni e Baggio i gol al 28esimo e mezzo rete di Carnevale che porta in vantaggio il Napoli dieci minuti dopo pareggio della Fiorentina con un calcio di punizione dal limite battuto da Baggio quindi 1 a 1 siamo adesso intorno al cinquantesimo secondo della ripresa parziali sugli altri campi Atalanta 1 Inter 0 gol di Prensis Brescia 1 Ascoli 0 gol di Gritti Avellino 0 Empoli 0 Avellino 1 gol di Schachner Milan e Como 0 a 0 Roma 0 Sampdoria 2 gol di Viercovod e di Vialli Torino 0 Udinese 1 gol di Pasa Verona Juventus 0 a 0 in Serie B Arezzo e Pisa 0 a 0 Campobasso e Cremonese 0 a 0 Catania 0 Taranto 1 Lecce e Genoa 0 a 0 San Benedettese 0 Pescara 1 Bari e Cesena 0 a 0 Bologna 1 Cagliari 0 Vicenza 1 Parma 0 Modena 1 Messina 0 Triestina e Lazio 0 a 0 1 minuto e 40 secondi di gioco nella ripresa in cui la Fiorentina è maglia bianca pantaloncini viola gioca attaccando da sinistra verso destra dirige l'incontro Pairetto di Torino con la collaborazione dei guardaline Di Bello e Iorio nel primo tempo è stato ammonito contratto e qui inizione Bruscolotti che sostituisce Ciro Ferrara che è indisponibile mentre bagna regolarmente in campo anche se le sue condizioni non sono ottimali si è visto in certi suoi limiti di dinamismo che sono poi l'arma migliore di Bagni che però ha voluto essere ugualmente in campo in questa partita così importante come si è detto più volte addirittura storica per il Napoli quindi Bianchi ha concesso a Bagni di essere ugualmente in campo seppure non al meglio delle condizioni fisiche ecco un lancio di De Napoli e portiere Landucci protetto da Pin e Gentile può bloccare tranquillamente ecco Gentile che effetto il rilancio su Baggio l'autore del gol su Baggio c'è questo intervento di Ferrario intanto a Torino il Torino ha pareggiato con l'olandese Wim Kift cross di Dostena gol di Kift Torino e Udinese 1 a 1 intervento di anticipo su Baggio mentre la rimessa in gioco è da parte di Onorati Baggio Gentile buon pallone per Antognoni che pinge in avanti poi Gelsi c'è un pallo su Gelsi Maldera batte rapidamente la punizione tiro fuori a sorpresa ha cercato la Fiorentina di ma l'arbitro aveva ovviamente concesso la rapidità della manovra proprio perché era nei diritti della Fiorentina Garella si è un po' risentito con i compagni che hanno un po' troppo perso tempo correndo un certo rischio intanto all'Olimpico la Sampdoria ha segnato il terzo gol ancora con Vialli Roma 0 Sampdoria 3 ecco sulla palla Maradona e Giordano per questo calcio di punizione in favore della squadra napoletana Giordano e Maradona è Maradona che fin tocca la palla per Giordano pallonetto restituito verso Maradona esce bene Landucci incontro a Maradona che era stato lanciato assai bene dal suo compagno di squadra Giordano onorati Antognoni Oriali Maldera va al traversone colpo di testa di Diaz a fin di palo fuori sempre abbastanza disinvolta comunque la Fiorentina dopo il gol del pareggio di Baggio la Fiorentina ha preso più confidenza ecco il suo allenatore Eugenio Bersellini e si muove con molta disinvoltura anche perché nella difesa del Napoli comincia a esserci un po' di paura è chiaro che l'importanza della posta fa sentire talmente emotivamente questa ormai fase finale del campionato e della partita decisiva è chiaro che qualche cosa non funziona ma dal punto di vista più emotivo che altro ancora Diego Armando Maradona sulla palla per battere questo calcio di punizione Magni si libera bene dell'avversario ancora in profondità per Maradona arriva fin e riesce in spirata in qualche modo a impedire il cross a Maradona resta a terra il giocatore della Fiorentina dopo aver mandato la palla in calcio d'angolo ed è il primo angolo del secondo tempo per il Napoli 2-2 il conto dei corner batte Giordano Bagni Bagni ancora per Giordano il tiro di Giordano molto intelligente ha cercato l'angolo alto cercando di piazzare la palla proprio al 7 opposto a quello di tiro ecco che rivediamo questo episodio con il bel tiro di sinistro di Giordano molto intelligente non molto fortunato ma proprio per un soffio colpo di testa di De Napoli alle prese con Maldera ancora al contratto De Napoli Maldera c'è il pallo di Maldera per il gioco pericoloso su De Napoli quindi il calcio di punizione in favore del Napoli Mace Romano per Carnevale su di lui c'è in questo momento Pin che lo ferma in fallo laterale Maradona continua a lamentarsi un po' Giancarlo Antognoni è un punto molto importante per la Fiorentina questo perché la Fiorentina è ancora ai limiti della zona retrocessione ecco la punizione per Romano il tiro da soterra mischia davanti a Landucci ma è proprio Landucci che riesce a bloccare il rasoterra che era insidioso perché scoccato da vicino e soprattutto perché c'era una polla di gente davanti al portiere della formazione Gigliata via via ancora un gol di Kifte Torino in vantaggio sull'Udinese per 2-1 due gol di di Bim Kifte Gelsi lo ferma Renica ancora si alza Bersellini a Fondora tentato da Volpecina c'era un primo piano per Volpecina intanto a Catania pareggiato il Catania con Borghi quindi Catania e Taranto 1-1 rimesso in gioco di Volpecina verso Maradona ecco Baggio ma asciupa la palla Antonioni non controllandola Volpecina Carnevale un colpo di tacco che cercava di liberare Giordano è uscito molto bene Landucci molto attento ecco il portiere Landucci onorati guadagna ancora un po' di tempo Landucci siamo all'undicesimo minuto e mezzo del secondo tempo intervento di Ferrario dopo il tocco da parte di Volpecina Renica Bruscolotti Romano che è stato servito da De Napoli quindi Renica e poi Toc contratto controlla l'intervento di Landucci di Landucci mi segue mi segue il pallone Antognoni Renica Volpecina per Salvatore Bagni De Napoli Maradona Maradona Bagni a fondo di Bagni che va al tiro fuori confusione in porta di Salvatore Bagni dopo 12 minuti e 40 secondi nel corso del secondo tempo un secondo tempo che non ha quasi niente più da offrire dal punto di vista emotivo fra il risultato di Napoli dove Napoli e Fiorentina sono 1 a 1 e quello di Bergamo sicuramente ormai il thrilling del campionato non c'è più in serie B Triestina 1 Lazio 0 gol di De Falco a Brescia ha pareggiato l'Ascoli Brescia 1 Ascoli 1 una partita delicatissima tanto c'è l'affondo di Maradona e viene intercettato il suo tiro da Gentile e la palla finisce in pallo di fondo quindi in calcio d'angolo terzo angolo in favore del Napoli secondo della ripresa ecco il corner Landucci di pugno De Via la palla sta per tornare verso Maradona che aveva battuto l'angolo Maldera riesce ad allontanare per qualche metro riprende Bruscolotti quindi De Napoli ancora un cross in area di De Napoli verso Carnevale che di testa cerca di fare la torre Gentile e gli altri difensori riescono a portare la palla fuori mentre Onorati si trova attaccato in pressing da Volpecina una triangolazione con Gentile libera Onorati per il possibile rilancio in avanti ecco Renica Romano va a recuperare Giordano per Bagni Bagni sembra volere trovare lo spazio per il tiro serve in avanti Carnevale un recupero di Oriali su Carnevale che tocca indietro poi a Landucci un po' di movimento sulla panchina della Fiorentina dove ci sono Rocchigiani Galviati dichiara attende la palla Antognoni apre bene per Onorati in profondità colpo di testa di Volpecina Vicenza 2 Parma 0 in serie B Vicenza 2 Parma 0 Bagni Carnevale De Napoli Gentile solo nella propria area ritarda un po' troppo il suo intervento e poi Landucci può comunque recuperare la palla senza ulteriori problemi Gelsi Onorati Romano intercetta riconquista la palla per i Napoletani servito Maradona Maradona cerca lo spunto per il cross Giordano ancora verso Maradona di nuovo Giordano allunga indietro per i compagni De Napoli Maradona intercetta Maldera regnita De Napoli De Napoli mantiene la palla anche sull'attacco di Baggio Bagni ecco Bagni che entra sta per entrare in area viene attaccato l'arbitro non ha assegnato nessun tipo di punizione in favore del Napoli per questo intervento su Bagni semplicemente rimessa dal fondo ecco Landucci che riesce sempre a guadagnare un po' di tempo nel momento dei rinvii delle rimesse in gioco 17 minuti e 45 secondi Napoli Fiorentina 1 a 1 colpo di testa di Ferrario Romano ecco ancora De Napoli agisce nel suo settore di destra di centrocampista di destra subito un fallo il Napoli beneficia di questo calcio di punizione partita che sicuramente non ha granché da offrire come episodi ma è una partita vissuta molto molto emotivamente proprio per il valore per il significato che ha ecco intanto che c'è una sostituzione ed è la prima sostituzione della partita esce Antonioni Berti al posto di Antonioni Colpo di testa di Renica quindi Romano alle prese con Onorati è rimesso in gioco del Napoli verso Bruscolotti Renica si spinge in avanti il libero cerca di pescare con il sinistro Maradona su di lui c'è Gelsi è Maradona è Gelsi il giocatore che in linea di massima controlla Maradona Maradona in area tiro parato da Landucci Romano Romano Ferrario ecco Maradona a Verona Verona 1 Juventus 0 ha segnato Elkier sul calcio di rigore Verona 1 Juventus 0 quindi il Verona raggiunge la Juventus a quota 36 a questo punto dunque Napoli è primo in classifica praticamente ha vinto lo scudetto le quattro squadre che parteciperanno alla Coppa UEFA in questo momento sono Inter Juventus Verona e Milan che sta pareggiando 0 a 0 in casa con il Como Rivediamo l'episodio di prima mentre ormai non si fa altro che aspettare che arrivi il novantesimo minuto per poter dar via libera alla serie dei festeggiamenti vediamo l'intervento di Volpecina di prima nei confronti di Berti Nicola Berti che è entrato da qualche minuto al posto di Antonioni si riprende con la punizione battuta da Claudio Gentile nella zona dove agiscono Diaz e Bruscolotti Renica con Alessandro Renica famiglia di emigranti Renica è nato a Anneville in Francia ecco Nando De Napoli proveniente dal Lavellino Bruno Giordano che aveva avuto una grande carriera nella Lazio poi ha avuto la parentesi infelice dell'episodio delle scommesse nella quale era rimasto coinvolto tornato a giocare ora trova la più importante soddisfazione della sua carriera tra l'altro anche modificato il suo gioco non è più soltanto un attaccante giocatore di manovra che ha realizzato molti assist vincenti ecco la punizione di Renica ribattuta da Suddiaz e Renica poi è una reazione non molto non molto simpatica poi c'è un rimpallo addirittura e Renica ha rischiato l'arbitro o non ha visto è stato molto generoso nella circostanza per la spinta antisportiva di Renica nei confronti di un avversario 23 minuti e mezzo De Napoli preceduto da Maldera Baggio si gira molto bene in maniera elegante per Maldera pronto il cross ed è Bruscolotti che precede Dias verso il quale era indirizzato un pericolosissimo pallone nella combinazione Baggio Maldera cross verso Dias Bagni verso Maradona controllo di petto poi cerca la conclusione di destro e sul cross di Maradona si tuffa bene Landucci bloccando cross di destro abbastanza inconsueto ma del resto da quella posizione Maradona non poteva far altro e l'ha fatto anche se non è il suo piede preferito Bagni ancora attaccato con successo da PIN 24 minuti e mezzo ancora un'interruzione Bologna 2 Cagliari 0 ha raddoppiato Pradella per il Bologna interruzione interruzione al San Paolo 25esimo minuto di gioco la Fiorentina ha già effettuato una sostituzione ha fatto entrare Berti al posto di Antonioni intanto a Verona la Juventus ha pareggiato con Manfredonia quindi Verona 1 Juventus 1 questo non modifica però la situazione per quanto riguarda i piazzamenti UEFA Verona scende a quota 35 la Juventus Sala 37 diventa seconda sono sempre però quelle squadre Inter Juventus Verona e Milan le 4 squadre che parteciperanno o meglio che parteciperebbero se questa fosse la classifica finale alla prossima edizione della Coppa UEFA verrà decisa domenica prossima naturalmente nel caso di parità di punti tra due o più squadre si ricorrerà agli spareggi per stabilire chi andrà in Coppa UEFA per quanto riguarda la retrocessione invece già retrocessa l'Udinese l'Atalanta sta vincendo e va a 21 raggiungendo l'Empoli e quindi in questo momento con il pareggio dell'Ascoli a Brescia sono salve Brescia e Ascoli e sarebbero condannate alla retrocessione Empoli-Atalanta ma c'è sempre naturalmente la giornata di domenica prossima l'Ascoli proprio dovrà ospitare il Napoli in Serie B il Pescara raddoppiato con Rebonato e sale così a quota 20 nella classifica dei marcatori di Serie B San Benedettese 0 Pescara 2 Berti ma il gioco era fermo c'è questo calcio di punizione in favore delle Napoli vediamo Maradona poi si avvicina anche Renica entra un altro giocatore ancora sta uscendo Baggio Catania 1 Taranto 2 ha segnato Maiellaro per il Taranto una partita molto importante per la salvezza Catania 25 punti il Taranto 24 e sono terz'ultima e penultima ecco il Napoli che batte questo calcio di punizione con Maradona c'è anche Renica e De Napoli per Renica il sinistro del libero altissimo e la conclusione sul fondo è entrato dunque dichiara al posto di Baggio nelle file della Fiorentina che ha effettuato le due sostituzioni ancora inquadrato invece Alessandro Renica autore di questo tiro al 28esimo minuto e 15 secondi della ripresa col punteggio sempre di 1-1 fra Napoli e Fiorentina Maradona recupera il pallone che deve essere rimesso in gioco con la punizione di Claudio Gentile che serve indietro Landucci la Fiorentina naturalmente fa tutto per conquistare un punto che le darebbe praticamente la certezza della promozione perché la Fiorentina se riuscisse ad arrivare a quota 24 con le ultime con la terz'ultima e la penultima quota 21 sarebbe al riparo da ogni problema vediamo come si perde tempo in Serie B sempre Lecce e Genoa 1-1 autogol di Panero e gol di Pasquilli sul rigore quindi Lecce e Genoa sono 1-1 nel giro di pochissimi minuti c'è stato il vantaggio del Genoa e poi il pareggio del Lecce Lecce e Genoa 1-1 a terra Gelsi che si è scontrato con Bagni la Fiorentina non può fare sostituzioni viene allontanato Bersellini che si è alzato dalla panchina partita che si nervosisce abbastanza inutilmente diciamo in questo finale vediamo Galbiati il giocatore che faceva parte della panchina avrebbe dovuto rientrare negli sfogliatori perché la Fiorentina ha fatto i due cambi quindi quelli della panchina rivediamo l'episodio vediamo la palla ormai è fuori ecco che Bagni va addosso a Gelsi a gioco fermo ha anche qui forse un intervento da parte di Bagni che poteva essere evitato ancora contestazione Bagni Bersellini tra l'altro sono della stessa regione Emiliana Bagni è della provincia di Reggio mentre Bersellini è di Borgotaro della provincia di Parma non molta distanza partita che non cattiva naturalmente ma è innervosita per la tensione per la grande attesa anche nel suo piccolo la Fiorentina ormai prova gusto a partecipare a questa festa ma guadagnando un punto che le darebbe la salvezza sicura certa e il Napoli invece è tutto teso verso ormai lo sfogo per questa storica conquista però è certo che forse avrebbe preferito regalare alla sua tifoseria sparsa in tutto il mondo la vittoria e non un pareggio in casa che tra l'altro è l'ottavo pareggio in casa conferma di un qualcosa che non ha sempre funzionato nel meccanismo della squadra partenopea brava comunque sul pieno della continuità ha vinto sette volte fuori quindi sicuramente meriti notevoli da parte del Napoli in questa conquista dello scudetto anche se resta il fatto che le altre squadre sono state un po' troppo presto autoescluse e allora in questo campionato così modesto per quanto riguarda i punteggi delle altre avversarie vediamo che la seconda ha trentasette punti e non va oltre i trentasette perché sta perdendo l'Inter la grande continuità del Napoli è stata l'arma vincente che ha portato la squadra partenopea alla conquista del suo primo scudetto in sessantuno anni di storia era andata vicino un paio di volte c'era stato qualche piazzamento d'onore qualche secondo posto qualche soddisfazione in Coppa Italia ma erano stati tutti ripieghi nei confronti della più prestigiosa conquista del campionato italiano cioè lo scudetto che finalmente viene ad aggiungersi nell'albo d'oro del Napoli ecco un intervento di Carnevale dopo che c'era stato quello di Berti ecco Maldera si disimpegna con Gelsi il controllore di Maradona lunghissimo il suo rilancio c'è solo Renica nella metà campo dove è andato il riglio di Gelsi quindi Bruscolotti Romano Carnevale Andrea Carnevale autore dell'importantissimo gol che ha sbloccato il punteggio Volpecina cerca lo spunto Volpecina Claudio Gentile verso Gelsi rilancio ma riprende ancora Maldera onorati ancora si guadagna tempo nel battere questa punizione poi arriva Pinne lo serve all'indietro tutto all'indietro Gentile ancora arriva anche contratto continuamente all'indietro senza accennare al rilancio lungo proprio per continuare a guadagnare altri secondi 35 minuti e mezzo al San Paolo Napoli e Fiorentina uno a uno Berti il rinvio di Bruscolotti un rinvio di Gentile poi riprende subito Bagni per Volpecina Giordano senza problemi per Landucci Gentile Landucci ancora alla ricerca di qualche secondo il pubblico ormai anche lui si disinteressa abbastanza del punteggio diciamo che a questo punto qualunque sarà l'esito di Napoli Fiorentina il programma festa per lo scudetto catta intanto a Brescia Ascoli in vantaggio con Scarafoni Brescia possibilità di restare in Serie A una possibilità che sta diventando concreta il Brescia resta a quota 22 sempre per ora Empoli Atalanta a quota 21 e in questo momento quindi andrebbero in Serie B le retrocesse sarebbero Empoli Atalanta e Udinese Ancora un lunghissimo e lentissimo rinvio di Landucci verso Berti attaccato da Volpecina Pin Ancora un intervento dell'arbitro Pairetto Bertellini è sempre in piedi è stato rimproverato dall'arbitro Pairetto Gentile con la panchina del Napoli c'è Ferrara ci sono Difusco Bigliardi Sola Caffarelli Muro Bologna 3 Cagliari 0 assegnato Marronaro Lecce 2 Genoa 1 gol di Panero che aveva fatto l'autogol Lecce dunque in vantaggio sul Genoa per 2 a 1 38 minuti e 50 secondi Napoli Fiorentina 1 a 1 Maldera batte il calcio di punizione per la Fiorentina colpo di testo di Brusco Lotti quindi tentativo di azione portata avanti dal Napoli con Maradona anche lui preferisce servire all'indietro Renica Ferrario Renica Romano Tripletta di Wimkift Torino Udinese 3 a 1 3 gol dell'olandese Wimkift che ha avuto un infortunio molto grave che lo ha bloccato dopo una decina di giornate e anche il Torino ha risentito molto dell'assenza del suo olandese Goljador che sembrava in questa giornata proprio poter esprimere al meglio le sue possibilità 40 tattesimo minuto Napoli ha ormai pochi secondi dal suo primo scudetto ecco che entra Ferrara al posto di Volpecina anche Ferrara come bagni non era in buone condizioni Bianchi lo ha risparmiato finale a San Siro Milan e Como 0 a 0 Milan dunque va a quota 34 un punto che non è molto comunque abbastanza importante per il piattamento in Coppa UEFA finale all'Olimpico Sampdoria batte Roma 3 a 0 con contestazione dei tifosi della Roma nei confronti dell'euro squadra è difficile per i giocatori della Roma e della Sampdoria rientrare in campo la Roma resta a quota 33 viene raggiunta dalla Sampdoria a 33 nella lotta per il piattamento in zona UEFA finale a Brescia Ascoli batte Brescia 2 a 1 mentre il Serie B Modena e Messina 1 a 1 ha pareggiato il Messina finale a Bergamo invasione di campo festosa Bergamo l'Atalanta ha battuto l'Inter per 1 a 0 quindi non c'è bisogno di aspettare la fine di Napoli Fiorentina il Napoli è campione d'Italia ufficialmente in questo momento finale a Bari in Serie B Bari batte Cesena 1 a 0 e Ferrara ancora non può entrare in campo arrivano arrivano notizie da tutti gli altri campi sto seguendo su altri 4 monitor le vicende delle altre partite più o meno interessanti la zona scudetto salvezza e dunque sto seguendo anche l'invasione di campo a Bergamo dove i tifosi dell'Atalanta festeggiano questa vittoria che rilancia le speranze ma soltanto le speranze perché la vittoria dell'Ascoli a Brescia rilancia ancora di più il complesso marchigiano ed è a questo punto l'Ascoli finora è salvo e l'Atalanta nonostante questa impresa contro l'Inter è ancora insieme all'Empoli nel trittico delle squadre che dovrebbero retrocedere ancora si gioca a Napoli 43esimo interruzioni lunghissime c'è il calcio di punizione per il Napoli Maradona lascia Giordano il tiro di Giordano fuori vola Landucci sulle diagonale di Giordano indirizzato abbastanza bene ma che non è riuscito a centrare lo specchio della porta rivediamo la punizione di Giordano il bel volo di Landucci che aveva dato la sensazione di aver coperto bene la traiettoria del pallone sulla punizione Gentile lascia indietro ecco che le bandiere azzurre del Napoli si mischiano si mescolano ai tricolori per indicare il titolo di campione d'Italia della squadra napoletana è ufficiale ormai il Napoli sta giocando questi ultimi secondi da campione d'Italia è ufficiale perché la sconfitta dell'Inter a Napoli ecco che anche il tabellone vedete dice che ufficialmente il Napoli è campione d'Italia e in tutto il mondo vogliamo dire scatta la operazione festeggiamento vediamo che non sta per entrare più Carnevale Ferrara ma sta per entrare invece Caffarelli è il numero 15 Caffarelli dopo essere rimasto a lungo in forze per entrare Ferrara entra invece Caffarelli è difficile per Bianchi naturalmente dare soddisfazione a tutti ed ecco è finito con 15 secondi di anticipo il Napoli ha pareggiato con la Fiorentina per 1 a 1 ed è campione d'Italia vi lasciamo queste immagini che non hanno bisogno di nessun commento ulteriore per gustare chi è tifoso del Napoli e sappiamo che nel Nord America ce ne sono tanti ecco gustatevi queste immagini che vi danno la prima sensazione del Napoli campione d'Italia per la prima volta in 61 anni il Napoli è campione d'Italia è a quota 42 irraggiungibile dall'Inter e dalla Juventus che sono a 37 hanno 5 punti di ritardo l'Inter è naufragata nel finale sono naufragate tutte le squadre l'Inter la Juventus il Verona il Milan la Roma e sono tutte squadre che non sono riuscite a avere il loro ruolo di antagonista e il Napoli di domenica in domenica è diventato sempre più leader sempre più padrone l'unica squadra che ha camminato a ritmo di scudetto tra le 16 della Serie A l'unica squadra che è stata e si è dimostrata degna di poter diventare campione d'Italia per il suo comportamento nessun'altra è arrivata in zona scudetto solo il Napoli dunque viva il Napoli campione d'Italia 1986-87 l'unica squadra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.